A porci davanti. Stiamo anche provando a fare il collegamento in live nella pagina Facebook di Confronti. È il primo tentativo, voi avrete pazienza con noi. Per fare cosa? Per fare un incontro in cui abbiamo cercato di mettere insieme quattro relatori. Il quarto è in arrivo, si sta per collegare. L'abbiamo chiamato Confronti Zoom Talk. È una tavola rotonda. L'idea qual è stata? È quella di reagire in qualche maniera alla situazione che ci costringe nelle nostre case, che ci rende spettatori di ciò che possiamo vedere in televisione e in internet, ma è più difficile ritrovarsi a ragionare insieme, questo è evidente. Uno strumento come questo, a metà tra il poter essere spettatori di una discussione, ma anche prendere parte, ricreare un senso di comunità che insieme vuole ragionare, questo ci sembrava doveroso, ma così come è sembrato a noi a tanti impegnati nei campi dell'educazione, della formazione, della comunicazione. Ecco, la reazione c'è stata, l'abbiamo sentita attorno a noi, ancora lo ammettiamo, siamo spaisati di fronte a questa novità che ha inondato le nostre vite. In tante descrizioni noi ci riconosciamo, nella descrizione di chi è costretto a casa, di chi ha i figli che non vanno più a scuola, in un'attesa, non sappiamo bene quando tutto questo finirà. Come l'abbiamo chiamato? Ricostruire dopo la pandemia chiese, religioni, educazione e politica, è tanta roba, lo sappiamo. Abbiamo fatto un titolo troppo ampio, forse sì, però forse abbiamo risposto a cosa? A tutto il mondo che cambia. Cioè è tutto il movimento, tutto è fermo e tutto sta cambiando. Ecco perché tutto insieme è anche una parola forte come ricostruire. Però per noi non è la conferenza nostra di confronto in cui parliamo, abbiamo chiamato delle persone a farlo con noi, lo vogliamo fare con dei giri di tavolo per creare vicinanza. Forse parleremo di troppe cose, ma proveremo a ragionare insieme. Ci sembrava un esercizio del pensiero doveroso, un esercizio della comunicazione, un esercizio, vogliamo dirlo, anche di forza, che possiamo darci reciprocamente se ci mettiamo a ragionare, a trovare sinergie anche, a trovare concetti comuni. Ebbene, questo proveremo a farlo con quattro ospiti d'eccezione per noi. Non voglio mascherare anche una certa emozione perché hanno accettato subito, si sono impegnati a venire a ragionare qui. Stiamo parlando di Fulvio Ferrario, che è il decano della Facoltà Valdese di Teologia, da tanto tempo un punto di riferimento anche per confronti, ma non solo, da qualche mese curatore di una rubrica anche per confronti, un pastore della Chiesa Valdese. Ringraziamo per essere con noi. Grazie Fulvio perché intervieni questa sera. Grazie a voi. Abbiamo con noi il professor Melloni, che insomma ho avuto la fortuna di conoscere io personalmente qualche anno fa, soprattutto in occasione della European Academy of Religion. Il professor Melloni dirige la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII a Bologna. La fondazione, insomma, straordinaria come storia, come forza di ricerca, come forza di archivio, come presenza culturale in questo paese. Tra le tante cose che Melloni fa e dirige, ha inaugurato in Italia appunto l'Accademia Europea della Religione e delle Religioni e questo è un punto molto importante della storia recente del paese. Siamo curiosi insieme di dibattere su come questo cambierà e cosa succederà nel prossimo futuro. Grazie per essere con noi, professor Melloni. Grazie a voi. Siamo in attesa che si unisca a noi il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Lo aspettiamo con impazienza, sperando che la tecnologia ci aiuti. Il quarto ospite è la moderatora della tavola valdese, Alessandra Trotta. Alessandra Trotta è stata eletta dal sino delle chiese meteoriste valdesi l'anno scorso, a fine agosto, da allora in moderatora. E' un grande piacere poterti avere con noi. Alessandra, grazie perché intervieni. Grazie, è un piacere per me essere qui con voi. Qualche settimana fa noi abbiamo cominciato una sperimentazione appunto usando Zoom. Abbiamo creato dei momenti partecipativi. In tanti hanno aderito. Siamo partiti la prima volta da 60 persone, siamo finiti nella domenica di Pasqua in più di 400. Significativo forse è il fatto che c'è un'esigenza d'incontro. Dentro questo ragionamento, noi come confronti, insieme a questo gruppo di organizzazione, abbiamo detto che dobbiamo fare anche un dibattito. Ecco perché il primo dibattito ha questo taglio. Cioè, come vedete, abbiamo la moderatora della tavola valdese, il decano della facoltà di teologia valdese, il professor Meloni della Fondazione per le Scienze Religiose. Possiamo dire che questa sera abbiamo un tavolo prettamente ecumenico che cerca di ragionare sul mondo. Vediamo se ci va bene questa rifinizione. La prima domanda che vorrei farvi, come primo giro, è questa nuova condizione in cui ci troviamo, chiusi nelle nostre case. Vedete qua c'è un pezzettino di stendino, a quanto pare, sullo sfondo. Ci sta insegnando qualcosa, sì o no? Cosa ci lascerà, secondo voi? Come muterà il nostro modo di stare? Lo sta facendo oppure dimenticheremo in fretta? Anzi, vogliamo dimenticare il prima possibile. Comincerei dando la parola al professor Meloni, che tra l'altro, se non sbaglio, di recente è stato nominato come rappresentante dell'Italia per chi si sta occupando in ambito internazionale per pensare all'educazione post-Covid. A lei la parola, prof. Grazie. Io, devo dire la verità, ho delle sensazioni non bellissime in questa fase qua, perché ho visto tutta una serie di persone tendenzialmente piuttosto ricche, alto-borghesi, con ville e giardino, che ci hanno spiegato che adesso possiamo finalmente rincontrare la nostra interiorità, che abbiamo tempo per il silenzio, e tutta una serie di cose di questo genere, che è quella che stiamo vivendo, è un gigantesco disastro, con delle ripercussioni gravissime e una disseminazione di angosce molto forti. Quella cosa che citava il direttore poco fa è la Global Alliance dell'UNESCO sull'educazione al tempo del Covid. Alla prima riunione, dove ci sono stati presenti i vari paesi, sono venuti quelli dell'OMS, a dire che ci sarebbero state tre conseguenze di medio periodo del confinamento, quando ancora erano in pochi paesi, dicendo che ci sarebbero state conseguenze di salute mentale per i bambini, conseguenze di relazioni affettive, familiari, e conseguenze di ordine pubblico. e mi sembrava che fosse un modo onesto per rappresentare quello che sta accadendo. Un disastro rispetto al quale mi sembra ci sono state finora delle risposte molto facili, molto ingeme, piccolo borghesi, che non sono stati capaci di caricarsi dei drammi veri e profondi. Mi è pensato ad una cosa molto banale e semplice, una cosa che la tradizione cristiana fa, che è quello di ricordare il nome dei defunti. E noi invece continuiamo da molte settimane a contare i morti per numeri, o al massimo a cercare nelle vite della povera gente qualche storia raccontabile giusto per non finire lì dentro. Allora, quello che questo disastro ci insegnerà dipenderà moltissimo da come ne usciamo e sappiamo che ne usciremo con una situazione economica molto disastrata, con le prospettive di lavoro di tanti molto disastrate, le prospettive esistenziali molto disastrate e ne usciremo con, credo, la scoperta che tutte le illusioni sul fatto che andrà tutto bene erano illusioni, non sta andando per niente tutto bene, sta andando tutto molto male, per essere precisi, e che ne usciremo migliori. È una scommessa che forse varrà per alcuni, perché molti non avranno neanche il tempo di decidere se sono migliori o peggiori. Semplicemente affronteranno una fase drammatica della loro vita, perché hanno perso il lavoro, hanno chiuso il negozio, hanno riviato di troppo l'operazione per il cancro o hanno fatto cose di questo genere. Non sarà per niente facile, questo è un quadro che ci preoccupa. Decano Ferrario, è un quadro che ci preoccupa? C'è qualcosa dal punto di vista di una facoltà teologica che può essere detto da questo punto di vista? Dolente di deludere, nel senso che io vivo la situazione non tanto in quanto responsabile di un istituto di formazione, anche nel senso che ci sono alcuni problemi di gestione, ci sono dei dipendenti, ci sono delle persone la cui vita dipende da come noi riusciamo a reagire alla situazione, in questo senso, molto piccolo come vedi, cioè molto circoscritto. Ma in realtà il mio approccio è quello di un pastore della chiesa, di un paroco che si occupa momentaneamente di un altro servizio. E lì appunto c'è, da un lato, la piena coscienza, non ci vuole molto, ma insomma effettivamente, la piena è anche un po' non gradevole coscienza di non avere messaggi particolarmente profetici, illuminanti, parole d'ordine che in qualche modo possano costituire appunto come tu prima hai usato questa parola, punto di riferimento. Ecco, punti di riferimento ne abbiamo pochi. Prima Alberto Melloni ricordava, io devo dire che ho nostalgia, capisco, appunto, sta andando tutto molto male, io non avevo mai sventolato bandiere, però mi piaceva che altri lo facessero, lo confesso, cioè era un messaggio che mi aveva raggiunto e che appunto in realtà si è rivelato non in grado di reggere anche la lunga durata di questa sfida. Come uomo della chiesa e della chiesa evangelica, diciamo, la mia piccola scommessa è piccola, è grande per certi aspetti, ma è piccola perché non ha la pretesa di risolvere problemi in modo definitivo, però secondo me c'è un'affinità elettiva, la chiamerei così, una parola un po' impegnativa, ma comunque tra il core business, diciamo, della chiesa evangelica, cioè l'annuncio della parola, e mezzi come questo. Cioè, in qualche modo, se, lo voglio dire con una citazione che mi ha molto colpito, di uno che non è protestante, ma è il presidente della conferenza episcopale italiana, Bassetti ha detto a un certo punto che cosa conta, il luogo o la parola? Allora, è una domanda retorica, naturalmente, dal suo punto di vista, anche dal mio, però bisogna farlo vedere che conta la parola. Sei qui, come dicevano quei cretese, sei a rodi, salta a rodi. Cioè, siamo qui, vediamo se, effettivamente, questa famosa centralità della parola, eccetera, eccetera, che non ci viene preclusa, mentre altre cose ci vengono preclusa, questa no, ecco, vediamo se ci si può fare qualche cosa che possa essere un piccolo, modesto, ma reale, aiuto, forse non per tutti, per qualcuno. Ecco, questi sono i pensieri che mi rodono, un po' confusi, ma sono questi. C'è confusione nel mondo, non solo nei nostri pensieri, che non erano confusi. Direttore Tarquinio, grazie per essere con noi, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata tra i partecipanti. Togliamo il muto, chiedo, ecco, aspetti che togliamo il muto, non riusciamo a togliere il muto, provi lei. Ecco, l'ho messo io. Ecco direttore. Sentivo tutto, ma non riuscivo a interloquire. Eccoci, eccoci, ben arrivato, non so se la domanda, la prima domanda l'ha sentita. Sì, sì, ho sentito, ho sentito anche il prologo, ma non mi rivedevate. Allora, grazie per essere con noi, cosa ci lascerà questa esperienza? Parola, luoghi di parole, insomma, un giornale ne deve dire tante ed è costretto, no, a dirle, anzi, il suo dovere. Com'è dal vostro punto di vista la situazione? La situazione è grave ed è seria, a differenza di quello che si dice a volte, però anche, dico una parola grossa, ed è il giornale che stiamo cercando di fare in questo periodo, è una situazione gravida anche di promesse. Come tutte le situazioni drammatiche, tutti i grandi dolori, tutte le grandi ferite, attraverso le ferite può passare la luce, può passare un tempo nuovo. Io dico forse una cosa un po' paradossale, sono d'accordo con le ombre che sono state indicate e che ci incalzeranno a lungo, perché i poveri ci saranno, i caduti abbiamo cominciato a contarli, ci sono già almeno 200 milioni di persone che hanno perso il lavoro nel mondo a causa delle conseguenze della crisi sanitaria, oltre i morti infatti materialmente dal virus. Però c'è una luce, ci sta facendo vedere pezzi della realtà che non volevamo vedere. Persino in questo nostro paese finalmente abbiamo illuminato tutte le aree grigie, quelle che non sono né bianche né nere. È facile riconoscere l'estrema e estrema povertà ed è sgargiante e continuamente ripetuta anche sui media cosiddetti di successo, che poi tanto di successo non sono più, la vita di quelli che sono arrivati in cima alla piramide, della notorietà, della ricchezza, di tutto. Adesso stiamo vedendo tutte le aree grigie della nostra società, quelli che anche la coperta le provvidenze di Stato non riusciva a coprire perché non l'ha mai riconosciuti, non l'ha mai voluti vedere. Quelli che fanno la vita grigia, che appunto, insisto su questo aggettivo, che invece è piena di colori, è piena di speranze, è piena di attese, è piena di idee, è piena di creatività. E oggi è piena di dolore e di insicurezza più che mai. noi lo stiamo riuscendo a vedere. Allora, questo è un tempo straordinariamente doloroso e propizio per preparare un tempo nuovo e diverso. Allora, attraverso avvenire cerchiamo di farlo vedere il più possibile, ma non in maniera ottimistica tanto per farlo, perché non possiamo davvero tornare come prima. Tutti ci dicono saremo come prima e vogliono esattamente l'ordine che c'era prima, che è un ordine ingiusto. Nel loro cuore questo vogliono le loro teste e stanno orientando le cose per tornare lì dove eravamo. Ma se facessimo questo sarebbe, cito anch'io il Papa, mi viene naturale, la nostalgia del sepolcro. Noi siamo usciti dal sepolcro, quello che ha detto ieri mattina, parlando di nostro signore. Avere la nostalgia del sepolcro in questo momento sarebbe drammatico. Ci inchioderebbe a questo tempo. Siamo di fronte a una sfida tale che non possiamo derubricare fra un po' a qualcosa che è già passato. A me colpisce, da cronista, non da to' vorrei esserlo fino in fondo, come abbiamo rimosso e dimenticato quello che è stata la Spagnola un secolo fa. C'eravamo persino dimenticati che c'è delle due ondate, del vaccino che non è mai stato trovato, dei 600.000 morti che ha fatto dopo una guerra che è solo in questo paese, dopo una guerra che aveva fatto un milione e due militari e civili in questo stesso paese, preparando l'avvento del fascismo, contribuendo all'avvento del fascismo. Ecco, allora, possiamo andare in una direzione scura, terrificante, o possiamo cercare di far uscire la luce da questa ferita in un'altra direzione. Bisogna incalzare i decisori e i legislatori perché ci accompagnano su questa strada. Le chiese possono fare tanto, hanno parole decisive, hanno parole forti, dove abita la parola. Tra la gente bisogna sapere rapportare. Mi colpisce che i cattolici vengano accusati, lo dico tra virgolette, tra quelli che non hanno digerito il fatto che anche la Chiesa cattolica, come gli altri culti, abbia aderito alla richiesta dello Stato di sospendere le funzioni con partecipazione di popolo, a una protestantizzazione del cattolicesmo. Questa è una delle accuse che mi sono arrivate a raffica nel giornale, perché mi limitate la parola, la preghiera da lontano. C'è gente che fatica un po' a capire, ma bisogna capirla, perché è un sacrificio grande che è stato chiesto in questo tempo, ma anche da qui può passare una luce che aiuta a capirci anche meglio fra di noi. E ognuno ha da insegnare qualcosa agli altri. Hai parlato troppo? Tutto buono. Abbiamo perso Claudio. Si è bloccato Claudio Paravati. Abbiamo perso Claudio. Abbiamo perso il nostro moderatore. Che torni e torni presto. In ogni caso, penso che posso immaginare che cosa avrebbe fatto. Ci avrebbe dato la parola ad Alessandra. Un botto di creatività. Grazie. Ma naturalmente anch'io penso che siamo ancora troppo immersi in quello che sta accadendo per riuscire a fare delle riflessioni così grandi. Certamente avremo, dovremo avere il tempo per fare delle riflessioni più grandi. Quindi anch'io mi limito a dei flash. Fra le riflessioni che sento fare molto in questo periodo, ci sono delle cose che sorprendono molti, ma forse non chi dice di vivere la propria vita nell'ambito del solco di un cammino di fede cristiana. Cioè sentiamo raccontare come una grande scoperta che molti stanno facendo, quella della fragilità dell'essere umano, quella della caduta dell'illusione di pretesa del controllo della propria vita, quella dell'interconnessione. Abbiamo scoperto di essere interconnessi interconnessi e una delle parole che vengono pronunciate che comincia a darmi un po' di fastidio, in realtà è una parola bellissima, la parola solidarietà, che però fino a pochissimo tempo fa era quella dei buonisti. Adesso invece abbiamo scoperto tutti la bellezza della parola solidarietà, ci commuoviamo davanti alle dimostrazioni di solidarietà, come sempre nelle situazioni di difficoltà, l'essere umano dà il peggio di sé, ma anche il meglio di sé. Quindi ci sono indubbiamente delle cose anche sul fronte dell'interconnessione e della solidarietà che noi stiamo sperimentando. Bisogna capire quanto dureranno. Stiamo facendo però anche delle esperienze inedite. Allora io pensavo, siamo molte generazioni, compresa la mia, ma ancora di più quelle che vengono dopo di me, stiamo facendo un'esperienza inedita che è quella di una restrizione delle libertà democratiche in relazione a, certo, un'esigenza grande, rilevante, alla tutela di un valore costituzionale gigantesco, quale è quello della tutela della salute e del bene comune, ma è un'esperienza inedita. E allora anche quella, sicuramente è un'esperienza che interroga. Sono d'accordo anch'io, stiamo non scoprendo le diseguaglianze, però stiamo avendo forse consapevolezza anche in relazione alla situazione che stiamo vivendo, del peso delle diseguaglianze. vicino a noi, quindi persino in relazione alla situazione di, appunto, di restrizione in casa che stiamo vivendo, dove la stessa parola casa ovviamente è vissuta in maniera molto differente a seconda che uno la casa ce l'abbia, non ce l'abbia, che sia grande, che sia piccola, che sia una casa in cui ci sono delle relazioni familiari complessivamente armoniose oppure una casa che diventa una prigione ancora di più rispetto a situazioni che già erano molto critiche e difficili. Penso all'ambito dell'educazione e la diseguaglianza. Io per alcuni anni a Napoli ho fatto insieme ad altri i volontari delle nostre chiese dopo scuola i bambini del quartiere Ponticelli. Ecco, io sto pensando che cosa la didattica digitale che hanno forse alcune scuole, non so, Ponticelli, come si saranno attrezzati, sta significando per i bambini delle famiglie a cui facevo il dopo scuola, che non riesco a immaginare, magari il telefonino ce l'hanno, ma non riesco a immaginarli per ore davanti alla didattica digitale in famiglie che non hanno esattamente la grande consapevolezza dell'importanza dell'istruzione e che stanno perdendo in questo periodo tutta quella rete compensativa di interventi educativi, di occasioni di stimolo, di confronto che rappresentano una opportunità di colmare almeno in parte il gap dal quale già i bambini fin da piccolissimi partono, registrano nel nostro paese come in tantissimi altri paesi del mondo. Quindi, certo, il peso delle diseguaglianze ce l'abbiamo davanti di tutto e poi pensavo da un punto di vista proprio strettamente della vita delle chiese. Ci troviamo di fronte, forza stiamo sperimentando da una parte un digiuno e da una parte una bulimia. Un digiuno che spero farà venire più fame e anche riscoprire il valore di cose che considerano scontate che è quello rispetto alla dimensione comunitaria in generale da un punto di vista sociale ma certamente anche da un punto di vista delle comunità di fede che cosa è la dimensione comunitaria quanto è centrale nella vita di fede. Dall'altro la bulimia di spiritualità di ricerca di esperienze religiose tutti vogliono pregare tutti cercano io ho la sensazione ma anche questo naturalmente interroga che questa spiritualità è un po' una spiritualità di conforto una spiritualità diciamo da emergenza quindi quella delle parole che ti danno consolazione che ti fanno sperare naturalmente che se ne uscirà che tutto andrà bene non so quanto sia questo è naturalmente un grande interrogativo una spiritualità che è quella che poi ti pone di fronte a una parola che è anche una parola critica una parola che converte che ti cambia lo sguardo che ti cambia la mentalità quindi sono tutte domande che credo gradualmente forse potranno trovare una risposta o anche un'occasione di analisi che sicuramente sarà si imporrà nei prossimi mesi forse nei prossimi anni grazie moderatore io come avete visto per un po' non ci sono stato ma attorno a me ci sono altri riquadri che ho scritto confronti e tutto il nostro staff parte del nostro staff che ringrazio per essere qua con noi Stefania, Daniele, Valeria, Michele moderatore grazie mi scuso per l'assenza prof ricominciamo il giro la domanda è secca usciremo più o meno europei io oggi ho avuto la fortuna di fare una riunione online come questa con rappresentanti di varie chiese europee che si interrogavano su democrazia educazione e temi affini possiamo dire che è mancata un po' una voce l'occasione di parlare in maniera unita anche in Europa queste chiese non si dimostrano un po' fragili secondo lei e il microfono prof sulla scena europea le chiese hanno hanno mancato da molto tempo di prendere una voce di prendere una voce comune sono molto rimasti imprigionati dentro la logica del famoso dialogo strutturato che poi alla fine non è mai diventato granché e ancora oggi lo vediamo l'Europa di oggi è un'Europa dove ci sono due grandi virus che si stanno diffondendo uno è quello del covid e l'altro è un virus che noi conosciamo molto bene che è un virus fascista è quello dell'antisemitismo che dilaga della democratura di Orbán di una di una crescita all'interno addirittura con un tentativo di quindi di vampirizzare il cristianesimo e il cattolicesimo romano al suo al suo interno dentro questi questi scopi quello che noi vediamo oggi in questa crisi è una cosa che è un po' difficile da dire mi sembra di aver sentito tutto sommato abbastanza poco e la sanità è una delle cose che l'Europa non ha messo in comune una delle alcune cose che non ha messo in comune su cui non ha voluto fare una politica comune perché gli stati erano gelosi dei loro sistemi delle loro politiche poi appunto è bastato una bestiolina grande così come un virus per rendersi conto che il virus se ne infischia dei sistemi nazionali e mette tutti davanti a delle prove molto molto gigantesche per cui come sempre la crisi passa come il famoso pettine della storia che passa fra i capelli dell'Europa e trova tutti i nodi come li trova anche come diceva il direttore Tarquinio sulla scena sulla scena nazionale ancora una volta qua noi siamo davanti ad una ad una questione abbastanza in fondo tutto sommato abbastanza semplice e vecchia qua adesso ci sono due pastori lo dico sommessamente vi ricorderete che del libro di Coelet non si parla di ricostruire si dice c'è un tempo per distruggere e un tempo per costruire non per ricostruire che è una cosa curiosa perché uno immagina per come sono fatte le altre le altre coppie di cose del tempo della ricostruzione qua l'Europa che c'è davanti è un'Europa che chiede di essere costruita andando avanti dal punto a cui l'hanno portata i padri fondatori quelli della prima generazione di Schumann di Edenauer di De Gasperi quella della seconda di Delors e di Prodi e adesso c'è una generazione nuova che deve costruire un disegno europeo che sia capace di raccogliere questo tipo di sfida che ci si pone davanti e vedremo come se la caverà e ci sarà anche un banco di prova molto semplice e molto immediato che non sarà quello che noi saremo in grado di fare sul piano europeo per conto nostro con il MES con i Corona Bond con le soluzioni finanziarie che alla fine ci saranno e si troveranno sarà quello che saremo in grado di fare quando questa tragedia colperà gli altri perché c'è una cosa che a me impressiona e che nel tempo che è passato noi ci siamo accorti dopo che ci eravamo dimenticati di piangere per Wuhan e di pregare per la Cina soltanto quando come dice il diavolo inizio di Giobbe toccano della carne soltanto quando ha toccato la carne nostra ci siamo accorti di qualcosa quello che io temo è quello che l'Europa qualche soluzione per se stessa la possa la possa trovare ma il problema è se sarà in grado di essere una grande voce in un mondo in cui prevalgono i regimi individualistici e il ritorno di democrature di dittature addirittura di imperi si saprà essere uno spazio della libertà c'era quel finale del discorso per il proprio Carlo Magno di Pan Francesco terrificante in cui finiva dicendo i diritti umani rimarranno l'ultima utopia dell'Europa al suo svanire e questo sarà il problema del domani materialmente sarà il problema se manderemo le mascherine in Africa quando ce ne sarà bisogno o se ce le terremo noi si ricorderà l'Europa di essere dentro un mondo più grande farà qualcosa a Fulio Ferrario naturalmente non lo so è una domanda diversa rispetto a quella da cui eravamo partiti sono state dette diverse cose che non vorrei coprire aggiungendone aggiungendone altre dico solo che per quanto riguarda l'assenza che tu Claudio lamentavi delle chiese ma a dire la verità come osservatore ripeto il mio osservatorio è molto provinciale non sono il direttore di un giornale nazionale non ho lo sguardo che può avere Alberto Melloni e non sono nemmeno il dirigente di una sia pur piccola comunque chiesa nazionale come la chiesa valdese ho detto il mio punto di guardatura è proprio quello della chiesa della comunità locale a me sembra che la chiesa cattolica sia entrata in questa emergenza non voglio dire disinvoltura non sarebbe una bella espressione ma comunque consapevole di poter giocare a 360 gradi perché da un lato io ho sentito frasi appunto come quella che ho citato prima del cardinale Bassetti e dall'altro ho visto un ricorso massiccio cioè una scommessa fatta sulla pietà popolare cioè il pellegrinaggio al crocifisso miracoloso alla Madonna della Neve le indulgenze l'ostensione della sindone cioè i repertori diciamo che quelli che venivano evocati prima dal direttore Tarquinio cioè quelli che temono una protestantizzazione fossi in loro io starei tranquillo diciamo così quindi la chiesa cattolica non sente il bisogno di mettere insieme le varie cose la preghiera ecumenica il mercoledì e le indulgenze il venerdì perché appunto può permettersi di fare una proposta di questo tipo con consapevolezza quindi io non la trovo affatto assente per una chiesa evangelica è difficile a me è mancata un po' però è facile parlare quando non si hanno le responsabilità di governo a quel livello però a me è mancato un po' la chiesa evangelica in Europa come a me piace chiamarla cioè noi protestanti ci vantiamo del fatto che noi abbiamo un modello di unità diverso da quello altrui però non meno concreto ecco cosa vuol dire annunciare Cristo una parola cristiana comune però non l'elenco di quello che hanno detto le singole chiese cercando di mettere insieme l'Italia e l'Ungheria in questo momento ma una parola comune in nome di Gesù che può anche essere una parola normal cristiana appunto ho sentito prima un invito alla preghiera secondo me da cristiano non è affatto astratto o generico o roba di questo genere ecco però comune io ho sentito una certa nostalgia diciamo così di una episcopè uso questa parola cioè di una guida evangelica in questo continente che appunto ci aiuti a fare un micropasso nella direzione della costruzione che veniva detta prima ho sentito però oggi qualcuno ha avuto la bontà di mandarmi il link si dice troppi link siamo tutti bombardati da lì sì dipende quali questo era buono ed era il link del discorso di Pasqua di Steinmeier il presidente della Repubblica Federale Tedesca gran discorso gran discorso non voglio appunto finalmente un protestante che dice una cosa carina perché appunto se non l'avessi trovato su Wikipedia non sapevo non l'avessi saputo di mio non emergeva dal suo discorso però finalmente appunto non voglio evocare i mostri sacri che prima ha evocato Melloni Schumann Adenauer De Gasperi però un discorso che abbia un respiro da europeo e da tedesco in Europa è anche vero che lui non deve rispondere il mese prossimo all'elettorato questo è pur vero cioè il presidente della Repubblica non è il primo ministro questo aiuta devo dire però finalmente ho sentito una cosa che almeno non mi fa arrabbiare cioè che ha il respiro che secondo me è necessario in una situazione il respiro spirituale anche se non ha menzionato Angeli e Santi però un respiro spirituale di cui c'è bisogno in questa situazione perché appunto è stato detto se no non vai io vorrei avere l'ottimismo che ho sentito prima sul fatto che le soluzioni economiche si troveranno speriamo sarebbe già qualcosa però effettivamente è chiaro che lì non puoi rimanere ma questo l'avevamo già visto anche prima della crisi non puoi rimanere a una soluzione a soluzioni economiche monetarie perché appunto abbiamo bisogno d'altro direttore grazie grazie decano direttore la parola Europa poi passiamo al mondo con la prossima domanda è importante o no sul giornale di queste giornate è una parola chiave è una delle parole chiavi no ma è di tutta questa vicenda è stato già detto molto bene perché ma anche la domanda lo proponeva iniziale se l'Europa non sarà in grado di dare le risposte che servono in questo tempo ai suoi popoli alla sua gente non darà neanche risposte utili per il mondo noi abbiamo una responsabilità grande come europei e continuo anche a ripetere a me stesso cittadino d'Europa siamo parte dell'unico laboratorio pacifico di integrazione delle differenze al mondo in questo mondo con tutte le difficoltà che sappiamo e le controspinte che sono emerse poderose ne ha fatto un elenco sommario ma molto efficace Alberto Malloni io credo che il passaggio sia molto duro ma adesso si dimostra che l'Europa cresce attraverso le sue crisi e cresce davvero ce lo siamo ripetuto fino alla nausea che l'Europa è cresciuta solo attraverso questi passaggi drammatici che hanno segnato il percorso adesso ci sono anche negoziati da fare ma ci sono scelte di fondo da compiere certo dispiace un po' che Steymire come Mattarella siano solo presidenti della Repubblica non qualcosa di più non a caso i due vanno molto d'accordo ma hanno storie diverse però hanno uno sguardo convergente mi chiedo quanto abbia influito Steymire nel fatto che il 62% dei tedeschi ultimo sondaggio d'opinione abbia dichiarato di essere totalmente favorevole a misure di solidarietà uso la parola che giustamente un po' esorcizzava prima la moderatora Trotta di solidarietà verso gli italiani e i popoli latini forse qualcuno non se l'aspettava una relazione di questo tipo stanno accadendo delle cose dentro questo processo faticoso sono spinte molto AFD che è scivolata al 9% nei sondaggi in Germania nel pieno di questa crisi sono noi italiani continuiamo in felice eccezione a tenere gonfiati i muscoli di chi non si rimerita anche per le cose che dice e che continua a fare in questi giorni però questo mi interessa poco in questo momento vorrei una maggior concordia anche nella mia nella mia Italia insomma per contribuire a questo percorso europeo non solo una chiave rivendicativa ma una chiave costruttiva bellissima anche la citazione che ho letto da questo punto di vista sono ottimista voglio esserlo voglio esserlo come voglio esserlo anche nella capacità delle di tutte le chiese cristiane di parlare a una voce all'Europa evangelici e cattolici insieme e ortodossi insieme vorrei che fossimo capaci di parlare vorrei che questo questo mi farebbe stare tranquillo vorrei dire questo mi farebbe stare molto più tranquillo eppure perché questa Europa non lo dico come una rivendicazione culturale che esaurisce tutto ma questa Europa nasce da questo anelito da questo sguardo cristiano i tre cristiani coraggiosi che hanno saputo dopo la guerra ascoltare anche le voci dei laici come il Tiro Spinelli e altri ma hanno saputo costruirlo nella strada che non c'era ed erano tre uomini di frontiera tutti e tre tutti e tre nati al confine uno del Trentino Alto Adige uno che veniva dalla Lorena e quell'altro che era Lorenano uomini che erano proprio sui confini e avevano vissute prima con le trincee poi con i campi aperti e le linee che non potevano essere sfondate aggirate e vanificate come la Magino lo sapevano tutti avevano pagato un prezzo e Colle un uomo che ha continuato a spingere in quella direzione quando è riunificato la Germania avendo perso un fratello dentro quella guerra abbiamo bisogno di dire così non ce ne sono molti in circolazione allora che ci sia un'opinione pubblica e un sentire cristiano che li accompagna e che li spinge nella direzione giusta non timido non remissivo non rassegnato le parole d'oggi nel momento io spero Moderatora l'Europa è stata importante per la storia anche della Chiesa Valdese Metodista ovviamente oggi qual è la prospettiva sull'Europa? Molte cose sono state dette anche io penso che questo treno sta passando un treno importante quindi ci dimostra sempre di più che o saremo più europei o non saremo si ha proprio la percezione che questa è veramente una prova decisiva e cruciale ora anch'io non so se le parole io credo che le parole possano avere un effetto quindi bene venga il discorso che ho ascoltato anch'io con moltissima emozione del presidente della Repubblica tedesca che ha parlato di prova di umanità della delusione di un semplice ritorno a una normalità di un benessere della Germania che non può essere costruito senza fare il bene degli altri paesi che sono vicini chi può spendere le parole di questo tipo è bene che le spenda io ci credo nella forza delle parole ora il sentimento in questo momento certo che in questi momenti di difficoltà c'è un'esigenza di unità l'abbiamo visto che questo rafforza molto la popolarità anche di leader in alcuni paesi che forse non sono esattamente quelli che stanno dando la migliore prova di lucidità e di discernimento in questa situazione e però i popoli hanno bisogno di identificarsi in una guida unitaria che grida all'unione piuttosto che alla disunione alla frammentazione e quindi speriamo che non si tratti semplicemente di questo ma chi ha delle parole da spendere in una chiave che rende chiara all'Europa che si trova di fronte veramente a un momento decisivo del proprio destino e forse anche della possibilità di dimostrare di essere quel laboratorio di cui si diceva di fronte a delle sfide che non sono puramente europee il virus non ha confini evidentemente e quindi richiede cooperazione e azioni comuni per poter essere bloccato è una cosa stupida pensare che si possa bloccare alle frontiere di qualche paese ma io penso a tantissimi altri virus globali che richiederebbero la stessa cooperazione e la stessa capacità di azione congiunta penso alla finanza speculativa penso alla crisi ambientale penso alle mafie tutti i virus ce ne sono tantissime diseguaglianze che o si affrontano insieme in questa prova di umanità di cui parlava il presidente tedesco saranno parole sentimentali ma è viva che ci sono parole di questo tipo che ci richiamano forse all'essenza delle cose in questo momento cruciale della vita del mondo o altrimenti si perde tutti quanti insieme dal punto di vista delle chiese io devo dire che allora forse è difficile appunto riuscire a dire parole altamente profetiche però devo dire che sicuramente le chiese evangeliche da moltissimi anni forse non con grandi discorsi e non so se sono in grado di dire le parole giuste al momento giusto però hanno molto chiaro l'orizzonte europeo e lo difendono sempre e credo che in questo momento non sono soltanto le chiese evangeliche ma effettivamente una voce cristiana che guarda l'orizzonte europeo come un orizzonte che deve rimanere unito solidale che deve appunto veder passare questo treno e saperci salire nel momento giusto nel modo giusto mi sembra di sentirla una voce di questo tipo che sa anche aprire l'Europa una visione più globale cioè se c'è qualcuno che in questo momento dice attenzione a questa bolla tutti i problemi del mondo poi li dobbiamo continuare a guardare sono tutti collegati sono le chiese cristiane non saranno tutte c'è anche chi sta dicendo che questo è il momento in cui insomma il Signore punisce il peccato degli omosessuali e quindi questa catastrofe si è abbattuta su di noi per questa ragione ecco abbiamo tanti cristianessimi abbiamo tante voci cristiane però mi sembra di poter dire che le chiese ai livelli appunto in cui vogliono provare a fare un discorso pubblico insieme in questo momento stanno provando a parlare la voce di un orizzonte comune e solidale e allora moderatore grazie perché questo è un assist importante per la terza domanda poi chiudiamo vi prego questo un minuto a testa così poi facciamo una bella conclusione e vedi cristianessimi ce ne è tanti ma se volessimo seguire questa questa provocazione potremmo dire che noi abbiamo il novecento di Mandela di King di De Gasperi di Schumann tra gli altri tanti nomi non detti di un cristianesimo che ha parlato alla politica alla società per trasformarla per liberare le persone e negli anni 2000 è un cristianesimo che è fatto anche da Bolsonaro da Orban da Trump da chi si fa a battezzare nel Giordano per poi fare la politica di Bolsonaro ma non è che il cristianesimo ha un'inedita familiarità col populismo un giro Melloni bisogna fare i conti e microfono prof microfono grazie per prendere fiato perché si può rispondere in un minuto no anche due il novecento dovrebbe aver insegnato al cristianesimo un famoso proverbio spagnolo che diceva quando l'iglesia gagna con la dereccia è la dereccia che gagna però forse la traduzione è ancora rallentata vent'un minuto e questo molto meno grazie questo è importante ferrario cosa facciamo di questo detto spagnolo il detto c'è non lo voglio rovinare commentandolo provo a rispondere alla tua domanda io vabbè del resto questo un po' ci conosciamo un po' ci frequentiamo insomma sono meno ottimista della moderatora della mia chiesa credo che il cristianesimo effettivamente non in Europa io non ho una visione globale in Europa non attraversa un buon momento in generale quello che piace a me sia cattolico sia protestante non è forte non sta bene anche all'interno del mondo evangelico prevalgono atteggiamenti che non sono quelli in cui io mi trovo più a mio agio all'interno del mondo cattolico prevalgono atteggiamenti che non sono quelli con cui interloquisco più volentieri questo è vero e quindi e quindi effettivamente il proverbio di Alberto Melloni acquisisce una inquietante verosimiglianza insomma e può darsi che c'entri con la nostra con la nostra attualità io mi sento sempre rinviato da queste situazioni appunto al mio lavoro quotidiano di ministro di culto insomma se siamo a questo punto è perché non l'ho fatto bene o comunque non l'ho fatto all'altezza delle esigenze del tempo però lo vivo anche come uno stimolo certo troppo tempo da perdere non l'abbiamo direttore domanda la strumentalizzazione c'è è evidente basta rileggere gli discorsi di un personaggio che è già stato evocato Victor Orban personaggio singolare della storia lui è un calvinista ungherese sposato con una cattolica che utilizza l'aggettivo cristiano per giustificare tutto quanto c'è di liberale è impressionante ripercorrere le sue esternazioni sul punto la simmetria rovesciata fra libertà e cristianesimo non so dove si è cresciuto con quali maestri o forse lo intuisco mi vengono i brividi ma quello che vedo e che so il rischio è reale perché c'è una generazione anche di di giovane guide del popolo del popolo cristiano che sono pericolosamente inclini a formalismi che possono come dire coniugarsi con le parole d'ordine di una destra illiberale e questo questo mi inquieta mi inquieta molto perché è un cristianesimo senza anima cristianesimo ridotto a pura forma che può diventare anche la camicia di un esercito di 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 falsi fondamentalisti cristiani perché non c'è nessun fondamentalismo cristiano in un populismo illiberale che anela a una forma di dittatura per me i cristiani sono e restano dentro una tradizione diversa che è popolare che è l'esatto contrario del populismo una formula fin troppo usata i populisti si servono del popolo i popolari sono una tradizione cattolica ed evangelica anche dentro la cultura politica europea servono il popolo lo so che lo usava anche una certa sinistra questa espressione ma non mi fa non mi fa ombra non mi fa vero questo è la mia opinione qualcuno dice che hanno ragione loro se così fosse così non è mi terrecare un mio torto per essere chiaro trotta da chi si trova a dirigere insieme a a un gruppo a un consiglio nazionale una chiesa sempre di più la politica brandisce le parole chiave del cristianesimo anche le cristianesimo per fare politica populista come come reagisce qual è il sentore quando si sente questa propria azione ovviamente la grande preoccupazione che è stata espressa e però accadeva anche prima forse anche di più nel senso che io ho la sensazione che la destra è liberale i populismi che hanno sempre bisogno di semplificazioni di nemici e di simboli oggi in questo momento ne hanno trovato un altro cioè oggi c'è la stessa spinta a giustificare l'ulteriore restrizione ad esempio in Ungheria delle libertà democratiche ma il nemico è il virus chiaro che a noi fa più male ci preoccupa di più ci deve rendere molto più fortemente vigilanti quando è la strumentalizzazione dei simboli cristiani che si presta a questo tipo di lavoro che crea sentimenti contro utilizzare i simboli cristiani utilizzare la fede cristiana per giustificare l'attacco a nemici umani le chiusure gli egoismi è una contraddizione talmente palese che è ovvio che preoccupa rispetto a questo rischio dovremmo essere tutti molto vigilanti e non fornire nessun tipo di alibi anche laddove percepire il rischio è più più difficile perché appunto ad esempio vengono utilizzati fortemente questi simboli molto legati alla devozione popolare che esercitano un fascino enorme e sono legati in modo viscerale all'esperienza umana esistenziale anche religiosa di talmente tante persone rappresentano elementi però oggettivamente che le masse le tengono allora anche lì c'è un po' di tentazione da parte delle chiese che hanno la preoccupazione della fuga dalle chiese di sposare con finalità probabilmente differenti lo stesso tipo di strumentalizzazione e insomma c'è da essere molto vigilanti grazie grazie moderatore all'ultimo giro noi vogliamo fare una domanda sull'ecumenismo questa è stata una serata all'insegna dell'ecumenismo insomma questa prima tavola rotonda che abbiamo messo insieme noi siamo confronti non facciamo solo ragionamenti con le chiese cristiane ma ragioniamo su politica religioni e società facendolo dal più variegato punto di vista possibile questa sera abbiamo parlato molto di cristianesimo l'abbiamo voluto la serata l'abbiamo chiamata proprio così chiese anche chiese religione di democrazia e politica ci sono già due domande che teniamo sott'occhio ci chiedono dov'è il link di questo discorso vi ricordo che sulla pagina facebook di confronti trovate il discorso che sta andando in diretta e quindi lì lo potrete riascoltare noi non ci occupiamo solo di cristianesimo ma abbiamo una rivista mensile siamo tanti siamo 280 persone intervenute vi ringraziamo ancora tanti amici tante amiche abbiamo visto che sono qua con noi vi ricordiamo che noi abbiamo il pdf gratuito questo mese andate sul nostro sito a scaricarlo leggetelo facetelo sapere come lo trovate questo per me è molto importante questo per dire che l'ultima domanda sull'ecumenismo che vorrei rivolgervi ringraziandovi fortemente di essere intervenuti con noi in questo orario da aperitivo da quarantena è questo insomma il covid è un pericolo per tutti per tutte la domanda è l'ecumenismo dove finisce l'ultimo dei problemi oppure prenderà questa occasione per dire di fronte a questo pericolo è l'occasione per cambiare passo ci interessa secondo voi sarebbe opportuno oppure insomma ci sono problemi ben maggiori da affrontare un ultimo giro su questo perché noi crediamo lo dico subito che stare insieme a ragionare di queste cose anche così sia un grande gesto ecumenico cioè noi siamo convinti che l'ecumenismo possa e debba essere un grande vantaggio culturale e sociale come confronti credo di poter dire questa cosa un po' buttata lì così prof ho sbagliato tutto oppure salviamo qualcosa ma io penso che ci sia un problema molto sottile molto teologico se si vuole ed è quella che è una delle grandi chiavi del cammino ecumenico è la presa di coscienza che il male del mondo anche quella apparentemente più distante non è del tutto separato dall'infedeltà delle chiese al comando dell'unità perché se no se l'ecumenismo diventa soltanto una forma di federalismo delle buone pratiche di 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 consorzio delle opere buone per dire una cosa che farà arrabbiare i pastori o cose di questo genere è un grande è un grande disastro la disunità delle chiese è una cosa che ogni volta che il male bussa alle porte della storia sia il male fatto dagli uomini quello della guerra sia il male fatto dalle cose imponderabili come la peste sia il male fatto dall'insipienza come la fame che sono le tre cose che le litanie domandano di liberare no? la peste fame met bello liberano domine quando queste tre cose capitano la infedelità delle chiese al comando di unità ridiventa un fatto un fatto centrale e tutto lo sforzo che le chiese fanno per l'obbedienza a questo comando di unità deve avere qualcosa a che fare anche con con il resto decano io vorrei dire tre cose la prima è che sempre perché il mio punto di vista è un po' provinciale locale ecclesiastico io sono abbastanza inchiaro che per me parlare di ecumenismo in Italia è come un po' se il gestore di un negozio di pneumatici usati parlasse con John Elkan del mercato dell'auto cioè tutte e due sono operatori dell'auto però le proporzioni diciamo sono un po' diverse io di questo sono consapevole e mi esprimo in questa consapevolezza la seconda cosa che vorrei dire è che naturalmente credo di capire che cosa voleva dire Alberto Melloni il consorzio delle opere buone può avere il fiato corto devo dire che sono così saturo di consorzi delle opere cattive che quasi quasi l'ho valutato anche questa cosa qui cioè no cioè alcuni capisco benissimo naturalmente è una sfida talmente ampia anche quella dell'ecumenismo non te la puoi cavare così sono d'accordo però siamo messi così male che alcuni consorzi di opere buone fanno secondo me penso che anche lui sia d'accordo comunque su questo ci aiutano e infine volevo dire una terza cosa io sono anche in una fase della mia vita 60 e passa anni insomma ormai mi interessano le cose importanti perché ho poco tempo e quindi sono in una fase della mia vita un po' scettica nei confronti dell'ecumenismo istituzionale l'ho fatto l'ho fatto con convinzione non saremo qui a parlare se non ci fosse stato non voglio dire una sillaba critica nei confronti di questo ma per me è giunto tempo di fare altro allora io però credo che anche in questo momento un po' difficile per l'ecumenismo non parlo del virus anche prima però succedono cose importanti che ne so l'altro giorno adesso non vorrei che venisse intesa come pubblicità per la dita ma l'altro giorno qui è venuta una clarissa a pregare io giro mia moglie dice che non ha mai conosciuto frati monache eremiti di varia specie come da quando è con me nella mia facoltà il corso su Lutero è stato tenuto da un professore dell'università lateranense cioè dell'università del papa certo qualcuno dice addio sono arrivato hanno conquistato anche il via Pietrocoso ecco effettivamente secondo me in queste cose nasce per esempio una disponibilità alla preghiera di intercessione che in altri tempi comune che in altri tempi non ci sarebbe stata io ci tengo per me è importante mi rendo conto che non è tutto ma da qualche parte devo partire sarà un po' clericale insomma ma parto da qua beh una preghiera di intercessione ma anche per esempio il corridoio umanitario che è una grande opera ecumenica che poi diventa diventa il federalismo delle buone opere direttore meglio fare quest'opera buona o intanto che facciamo dunque sono i miei maestri quando ero adolescente accanto a padre Prosper Grech c'era Renzo Bertalotti che diciamo che mio padre volle che fin da ragazzo l'esperienza dello sguardo cristiano più complessivo possibile di incontrare persone sagge che venivano da strade diverse e camminavano nella stessa direzione Renzo Bertalotti mi diceva mi ha detto più volte mi è rimasto impresso la memoria l'ho raccontato anche qualche altro libro cioè io partengo a una generazione che non vedrò neanche la terra promessa parlava dell'ecumenismo come Mosè ma tu la vedrai sono arrivato a 62 anni e sto salendo quest'erta e non so se davvero da lì la vedrò però so che da cronista ho assistito in questi anni a qualcosa di imponente che è accaduto quello che è stato chiamato l'ecumenismo della carità il consorzio delle opere buone i corridoi umanitari sono una delle testimonianze ma è imponente nella realtà del mondo non fa rumore non ha riflettori puntati addosso ma tocca la vita della gente in tante situazioni la cambia è vero ho visto l'ecumenismo del sangue continuo a raccontarla questa storia terribile dei cristiani che muoiono e credono insieme per non rinnegare il nome di Gesù e sono di confessioni diverse che credono nello stesso Cristo e noi raccontiamo queste storie non si fanno le domande sulle loro differenze certo non la faccio facile perché questi si rimettono la vita in questo tempo che è un tempo di morte ed è riscoperta del limite senza il senso del limite ancora nelle nostre società ma stiamo capendo il limite c'eravamo illusi con tutti che la tecnoscienza ci avesse messo a disposizione gli strumenti per le pandemie erano tutte cose del passato l'ultima l'avevamo archiviata ormai avevamo abbiamo vaccini per tutto anche quando non l'abbiamo quando non non li abbiamo scusate mi cercano al giornale prego no anche quando non abbiamo trovato quello dell'AIDS la spagnola ce la siamo dimenticata non abbiamo trovato il vaccino l'ultima grande pandemia di un secolo fa oggi scopriamo che la natura dentro la natura ci sono forze infinitesimali ne parlava prima Alberto Mellore e mettono in crisi tutti i nostri orizzonti c'è qualcuno che abbia bisogno c'è bisogno di un ecumenismo della vita diceva giustamente il decano questo ferrari molto importante e credo che per queste strade oggi c'è bisogno di risposte di senso vere che io sono la gente a vedere a capire anche l'insufficienza di tutte le risposte che troviamo ma di capire qual è la direzione la quale si può andare insieme io penso che il tempo possa essere maturo bisogna farlo maturare è parte di quel compito che abbiamo che abbiamo davanti buon lavoro a tutti moderatore poche cose ancora rispetto alle tante che sono già state dette questo tempo forse non è proprio il tempo non so che fa fare ulteriori salti di qualità forse perché è un tempo che spinge un po' alle semplificazioni l'ecumenismo ha bisogno di semplicità ma non di semplificazioni fatica che non ama molto le semplificazioni quindi non mi aspetto però è vero che gli ultimi anni sono stati anni invece gravi di cose significative e non sul piano dell'ecumenismo istituzionale o non soltanto sul piano dell'ecumenismo istituzionale sono anch'io d'accordo che invece le cose più belle che io personalmente ho vissuto riguardano proprio l'ecumenismo per così dire di base che è quello più esistenziale di condivisione di momenti di preghiera ma anche di ascolto della parola della passione dello studio congiunto della parola e a proposito del consorzio delle opere buone io ci avrei un modo molto semplice per distinguere di che tipo di consorzio si tratta e anche rispetto ai corridoi umanitari che sono un'opera comune in qualche modo che non è fra quelle che non sono d'accordo sul fatto che non abbia acceso i riflettori ha acceso molti i riflettori secondo alcuni anche troppo però devo dire che non è di quelle che fa crescere la popolarità delle chiese è anche un tipo di intervento che ha creato di senso profondamente di senso anche all'interno del mondo cristiano oltre che rispetto ad alcune parti politiche che ovviamente guardavano come il fumo negli occhi il fatto che si potesse testimoniare di un certo tipo di accoglienza allora secondo me questo è un modo per distinguerle sono delle opere che non sono il consorzio delle opere buone quando espongono a quel tipo di dissenso diciamo anche di debolezza che secondo me le distingue come opera di diaconia evangelica cioè che fa riconoscere quella che invece è la forza evangelica la debolezza che nella quale alla quale ci si espone e nella quale la scommessa è che si vive la vera forza dell'evangelo io credo che ci siano opere comuni che sono di questo tipo secondo me non appartengono alla categoria del consorzio delle opere buone allora grazie mille noi vogliamo rendere la cosa più veritiera possibile regalateci gli ultimi tre minuti prendiamo due domande dal pubblico facciamo un giro e ci salutiamo promesso perché c'è il giornale da finire tanti lavori da fare buongiovanni ti diamo la parola così puoi intervenire con l'audio vi prego domande velocissime le raccogliamo così poi chiudiamo togliamo il muto in basso a sinistra se puoi ecco sì buonasera a tutti buonasera un braggio buongiovanni sì io avrei una domanda cioè si è parlato dell'ordine ingiusto mi sembra una come dire una riflessione molto molto corretta in questo tempo ma la domanda è molto secca sarebbe stata la stessa cosa se questa pandemia avesse colpito i paesi poveri che in questo momento soffrono anche tantissime altre epidemie di cui non si parla e ancora una volta viene toccato l'occidente più ricco e quindi c'è tutta una reazione forte ma la mia domanda avendo assistito a tante catastrofi in questo periodo anche direttamente sarebbe stata la stessa la reazione grazie buongiovanni ci sono anche due domande scritte che riassumo velocemente una è simile dice siete sicuri che si può essere sostanzialmente speranzosi per il futuro perché obiettivamente il nostro contesto sociale era già radicalizzato probabilmente lo sarà ancora di più di fronte a problemi economici che toccano profondamente le famiglie insomma c'è una domanda forte di chi dice sì ma qua siamo messi male sicuri che si può essere speranzosi e l'ultima se no diventiamo troppo lunghi chiedo scusa a tutte e tutti dice perché non ripartire questa un po' più interna alle chiese dalla lettura e studio della Bibbia per comprendere le nostre radici per lavorare davvero insieme quindi due diciamo parliamo di povertà nel mondo nel mondo qua da noi cosa succede perché ci impoveriamo e alla fine il ruolo dello studio della parola per le chiese quindi una domanda più ecclesiastica un giro veloce professor Mellon microfono per favore come anche già detto io penso che una delle cose che questa catastrofe mette in luce è il fatto che ce ne siamo accorti solo quando è arrivato sotto casa nostra e che dunque il problema di almeno per le chiese di non perdere la sensibilità per le altre catastrofe che colpiscono altri punti del mondo altre parti del mondo così o in altro in altro modo è una misura che c'è riguardo la questione della posizione delle chiese io penso che una delle cose sulle quali le chiese insieme devono ragionare oggi per se stesse e soprattutto per le realtà di fede ancora più più piccole è quella di trovare il modo di uscire da quello che si è imposto come una specie di necessario giurisdizionalismo sanitario questa idea che andare dal tabaccaio è una necessità e andare in chiesa no non fosse altro per portare un sacchetto di pasta per qualcuno che lo passi a prendere che c'è di sicuro è una cosa che mi sembra vada ripensata vada affrontata perché le chiese non sono governate e popolate di irresponsabili che essi gli dà il via libera fanno delle cose turbi potrebbero benissimo adottare tutte le misure del caso quelle che stiamo vivendo adesso quelle che vivremo da domani in molti codici ma cercare di uscire dall'idea che le chiese siano un codice a teco che è ancora sotto sotto vincolo possono farli in molti modi un modo lo evocava prima Fulvio c'è una grande tradizione dell'autodossia che era molto fortunata nel monachesimo ma è bella la preghiera idioritmica quella di un appuntamento di preghiera comune per tutti che è una cosa che i cristiani possono fare fra di loro molto facilmente che possono offrire agli altri e anche quello di fare in modo che una piccola rappresentanza di popolo al culto tre per ogni chiesa quattro per ogni chiesa sette come ha fatto il Papa nella vigilia pasquale possano entrare nei luoghi della preghiera e rappresentare tutti quelli che non ci possono entrare sia una cosa che è abbastanza semplice abbastanza cristiana grazie decano ho visto che avete alzato la mano Ruggero chiedo scusa ma stiamo finendo il tempo vorrei stare qua con voi ma non possiamo abusare troppo del tempo abbiate pazienza chiedo scusa a tutti Fulvio decano ok Alberto Melloni adesso in coda ha aperto un altro tema andrà bene per il prossimo dibattito questo dell'aperto del chiuso io cerco di mettere insieme un po' diciamo due perché due erano molto vicine e l'altra domanda io credo questo nel nostro piccolo noi avremo anche in casa nostra tra non molto anzi forse già c'è la sfida degli ultimi tra i colpiti nel senso che l'epidemia fa selezione cioè non è vero che colpisce o meglio colpisce tutti ma non tutti indiscriminatamente discriminano cioè c'è chi paga più degli altri e presto questa cosa sarà urgente e appunto uno dei dati degli ultimi anni o forse decenni è che la sensibilità in Europa nei confronti di queste persone c'è poco da fare cala cala forse si potrebbe dire questo un po' schematicamente chiedo scusa per la grossonanità ma da quando non c'è più la sinistra che si occupa di questo effettivamente la sinistra siamo diventati noi anche chi di noi non ci si sente a proprio agio cioè improvvisamente la Caritas è diventata un branco di solversivi e così anche i corridoi umanitari secondo me noi dobbiamo vivere questo ruolo indipendentemente comunque la pensiate come diceva quel tale dobbiamo viverlo con coscienza e poi naturalmente c'è il mondo globale ma appunto qui è un po' come il salmo sono cose un po' troppo grandi troppo alte per me io non riesco a pensare così in grande ma credo che già c'è una globalità sotto casa che non esclude l'altra non vorrei adesso essere frainteso che non esclude l'altra però che mi interpella e credo che l'urgenza ci batterà veramente alla porta e non è retorica direttore voi avete il mondo quotidianamente sott'occhio quando è il vostro lavoro sott'occhio ma non sotto controllo questa è la condizione è chiaro che siamo davanti a un passaggio epocale quando si distrappresta a dire rottura del processo di globalizzazione che era in atto ma questo è questo sta accadendo avremo una fase per qualcuno regressiva peraltro di fondazione per me e la mia speranza anche fondazione un nuovo equilibrio che passerà per un lungo periodo intermedio in cui riconteranno molto le aree geopolitiche più circoscritte per cui gli anti-europeisti possono avere la birra da tracannare e dentro per andare come abrivio in questa fase ma pagheranno un prezzo perché quello che ha detto non solo il presidente della Repubblica tedesca ma gli industriali tedeschi appellandosi alla Confindustria tedesca appellandosi alla Merkel dicendo che deve assolutamente aiutare gli italiani perché sennò loro non vanno avanti perché tutta è la componentistica italiana che rende eccellente l'alta tecnologia tedesca perché la componentistica italiana è d'altissima qualità ma queste cose noi le sappiamo adesso che lo sappia anche l'opinione pubblica tedesca mi fa piacere insomma però scopriremo sempre di più questo quanto è importante l'Europa da questo punto di vista ma a me non basta a me non basta non penso che potremmo risolvere i nostri problemi se risolviamo i nostri punto e rifacciamo la fortezza Europa sospinti dall'emergenza della pandemia perché le sfide si faranno più incalzanti dentro e fuori e la guerra di chi tenterà sconfitto sulle ragioni della rottura dell'unità di incrementare le divisioni rimettendo i poveri di casa nostra con i poveri di fuori si farà ancora più cinica e più violenta sono facili e profeti in questo delle settimane a venire già sta cominciando a rombare la besta sta cominciando a zannare di nuovo in questo modo quindi sarà durissima la cosa e c'è poco da il sud del mondo è già colpito lo sarà di più io ho scelto di pubblicare come editoriale di prima pagina la lettera mi ha mandato Antonio Guterres perché era straordinariamente incisiva nel sintetizzare cose che aveva detto in altro modo a lungo su quello che si aspettano Nazioni Unite che accada nei sud del mondo nei mesi a venire questa storia comunque vada non durerà poco abbiamo davanti una traversata del deserto e quello che noi stiamo pagando adesso lo pagheranno i più poveri e sarà moltiplicato perché non ci sono le strutture sanitarie che abbiamo noi io mi auguro che non sia così che sia una profezia senza seguito me lo auguro e prego perché questo non accada ma se dovesse accadere come è possibile che accada vi rendete conto che scenari che abbiamo davanti che impoverimento complessivo di centinaia di milioni forse di miliardi di esseri umani sulla faccia della terra questo perché può segnare un cambiamento d'epoca come è accaduto con tutte le grandi pandemie del passato allora di fronte a questo o hai speranza o hai disperazione io scelgo di stare con quelli della speranza sapendo che sarà durissima e e dobbiamo metterci tutta l'anima il cuore l'intelligenza necessaria per cercare di far sì che non sia una guerra inesorabile di tutti contro tutti e che il Signore ci accompagni in questo e ci guidi e questa è anche la speranza di fronte ho risposto anche sulle radicalizzazioni sulla Bibbia come terreno d'incontro lascio la parola alla moderatora che già l'ha detto d'altra parte poco fa e già ha risposto secondo me da cronista io me le noto le cose e adesso infatti prendiamo appunti e grazie per avermi coinvolto grazie direttore a lei moderatora si può ripartire dalla media tu collega direttore grazie 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 moderatora ma anch'io volevo tornare molto brevemente sul rapporto con il sud del mondo naturalmente è chiaro che ci siamo interrogati tutti io ci pensavo per quanto mostruosi i numeri dei morti con i quali ci stiamo confrontando sono nulla paragonati a ragione chi ha fatto la domanda al numero di morti che quotidianamente si registrano in tante parti del mondo per via delle guerre sanguinose delle malattie più banali rispetto alle quali i bambini e le persone non si riescono a curare sono tantissimi paesi del mondo in cui si muore per la diarrea quindi è chiaro se però la domanda fa differenza perché è colpito l'Occidente paradossalmente sì perché se questa situazione sta creando questa consapevolezza di fragilità di non autosufficienza di interconnessione che coinvolge l'Occidente che invece si sentiva forte al di sopra di tutto autosufficiente forse ecco speriamo naturalmente che sia una crisi che può essere vissuta in un modo che invece apre a un altro modo di affrontare le crisi nel mondo quindi a me è molto colpito che la regione più ricca d'Italia quella che si sentiva la più forte lo è la più forte d'Italia ha dovuto confrontarsi sembrerà banale questo elemento ma a me è molto colpito ha dovuto confrontarsi con il fatto che i suoi malati avevano bisogno delle terapie intensive dei reparti degli ospedali palermitani napoletani i suoi morti sono stati mandati nei cimiteri della Toscana ecco se questa crisi fa la differenza forse perché colpisce con esponendo un senso di fragilità chi si sentiva forte e può darsi che questo faccia la differenza anche io credo che noi siamo condannati a sperare non possiamo fare altro che sperare insomma diciamo che la fede che anima la nostra vita ci spinge a questo e quindi vogliamo credere che questa crisi grandissima sia e possa essere vissuta in un modo che apre a un cambiamento e a una trasformazione veramente significativa del modo in cui le relazioni fra gli esseri umani e fra i paesi del mondo verranno vissuti allora noi vi ringraziamo veramente di cuore per il tempo che ci avete dedicato e ci sono ci sono delle domande vorrei solamente ringraziare chi le ha poste non possiamo ancora rispondere ma ci tengo a dire che Giorgio ci chiedeva ci diceva grazie per la serietà delle analisi per esempio continuate il vostro lavoro noi grazie di cuore per questo messaggio incoraggiante e Mariella ci chiedeva si può cambiare il modello di sviluppo partendo dalla lettera laudato enciclica laudato sì e Bruna però ci chiedeva sarebbe molto interessare dedicare più spazio all'educazione credo che oggi si sappia ancora poco eccetera eccetera insomma avete capito che c'era voglia di continuare a dibattere questo è un segnale forte credo che in 200 adesso siamo 239 persone rimaniamo qui vogliamo continuare a dibattere avrei invitato a parlare ma siamo troppo lunghi chiedo scusa a Nikos che avrebbe chiuso il cerchio almeno un piccolo cerchio ecumenico perché è un grande amico ortodosso che abita qui scusami Nikos siamo un po' lunghi io avevo chiesto di intervenire ma dovrei dare spazio a troppe persone ti salutiamo caramente credo che sia però il significato di una voglia una voglia di ragionare insieme quindi vi ringraziamo di cuore se i colleghi vogliono mettere il video salutiamo come confronti se non ci sono Stefania, Michele, Valeria e Daniele se non riuscite fa niente ma ci teniamo a presentare un pezzo di squadra c'è un altro pezzo di squadra di là tra chi sta partecipando dei colleghi ciao Stefania grazie a tutti per il lavoro io vorrei ringraziare Francesco Sciotto l'area Valencia e Marco Fornerone che insieme a noi di confronti stanno lavorando questa operazione che è l'operazione di tentare di andare avanti con quello che sappiamo fare tentiamo di saper fare che è questo mettere insieme un po' di idee grazie di cuore direttore Tarquinio grazie Melloni professore grazie a tutti sul ferrario grazie moderatora alla prossima volta e buona serata grazie arrivederci arrivederci grazie di cuore ciao grazie a presto ciao direttore ciao grazie